Eccoci qua, siamo insieme a Tony Morgan sul set Il Bacio, il futuro di una generazione. Il regista Tony Morgan e Roberta Arnone. Aspetta, Roberta? Roberta? Roberta! Devi fare un set per il ragazzo. Eccoci. Ciao! Un video? Sì, è un video, siamo qui. Aspetta, siamo qui anche noi. Come si chiama lui? Chi? Lui. E' che io stai facendo? No, su Instagram. No, così. Ecco, siamo qui sul set con Tony Morgan e Roberta Arnone sul set Il Bacio. Ciao! Ciao a tutti! Ciao, ciao! E' bravissima lei, eh? No, no, me la scelta. Un regista voleva? No, vieni qua, vieni qua. Eccoci qua. Prego. Ciao. Le parole? No, tu, cominci. Ah, io. Eccoci qua, siamo sul set Il Bacio con Tony Morgan e Roberta Arnone. che siamo gli autori e regia di questo film e lei è molto brava, molto, 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 molto brava. Ecco qua. Chissà, alla fine del film sei ancora brava. Chissà, boh. Chissà. Ciao a tutti. E' bravissima. Ciao, ciao ragazzi. Ciao. 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 Grazie a tutti.